Italinia представляет In continua evoluzione E diventa una risposta autentica ad ogni esigenza di arredo Serenissima Ispirazione e significati Serenissima Azienda leader nel settore dell'arredamento Night and Day da più di 40 anni Si propone come una realtà vivace, dinamica Dove entusiasmo, organizzazione ed efficienza Sono fattori che stanno alla base per realizzare e proporre soluzioni abitative di successo Sempre in linea con i cambiamenti del mercato e del gusto Il cliente e le sue necessità Tradurli in realtà Personalizzando i modelli esistenti Attraverso sistemi di programmazione grafica Velocità ed immediatezza Risposte dirette e puntuali Una personalità decisa Un approccio importante e costruttivo Frutto di un'esperienza reale, consolidata Che ha consentito lo sviluppo di un prezioso know-how e di una solida competenza Serenissima Serenissima significa impegno Serenissima come sinonimo di attenzione Professionalità e consapevolezza L'abilità delle risorse impiegate Il cui apporto garantisce al prodotto un'impareggiabile artigianalità E l'elevata automazione delle diverse stazioni della linea produttiva Restituiscono un prodotto definito ed unico In ogni suo tratto Una produzione notevole L'ampia gamma di modelli proposti E un vasto magazzino adeguatamente organizzato Per ottimizzare i tempi di consegna E garantire quindi una logistica efficace Serenissima diventa espressione del binomio tecnologia-passione Diventa portavoce dei tuoi desideri Delle tue aspettative E del modo di concepire gli ambienti della tua casa La bellezza e l'eleganza della collezione tradizionale Il fascino dell'intramontabile Realizzazioni raffinate Di classe Dove la storia rinasce Dove calore e antichi sapori Si esprimono con assoluta naturalezza Proposte che svelano e ricalcano La storicità di un'azienda Un'azienda comunque capace di assecondare i cambiamenti Capace di distinguersi Anche attraverso soluzioni di tendenza Freschezza, estetica e funzionalità Per la collezione Moderna Notte Presentata da Serenissima Nuove forme Nuove concezioni E nuove idee tutte da vivere In assoluta libertà Accostamenti accattivanti Accostamenti accattivanti di legno e colore Sperimentazione ed utilizzo di nuovi materiali Serenissima Suggerisce nuove espressioni E nuovi profili Volumi essenziali Piacevoli Adatti agli svariati stili di vita Soluzioni d'arredo per una zona notte Chissà come farsi notare Qualificata anche nella proposta delle armadiature Modelli dove il design Incontra la razionalità Dove espressioni avvenenti Si fondono con massimi livelli di praticità Differenziarsi Rimanendo fortemente riconoscibili Mantenere la propria vocazione Stupire con il sottile e provocante Gusto del nuovo Una notevole varietà di proposte Molteplici interpretazioni Per incontrare le vostre esigenze Sempre all'insegna Della massima qualità E dell'impareggiabile stile Serenissima Ispirazione E significati Italinia Per incontrare